Un appuntamento aggiunto alla sua 26esima edizione, che quest'anno ha raggiunto la cifra di quasi 300 atleti partecipanti in gara, 287 per la precisione, 9 società provenienti un po' da tutta la Lombardia, ma anche dall'Emilia Romagna e dalla Svizzera. Numeri in evidente e costante crescita per il Trofeo delle Alpi. Gara di nuoto pinnato, valida come prova zonale per la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, e come campionato provinciale. L'appuntamento è organizzato da ASD Valtellina Sub e riservato alle categorie esordienti, juniors e master, nelle acque della piscina comunale di Sondrio. È una manifestazione che ormai da 26 anni la federazione ci assegna, proprio per la buona riuscita che ha sempre avuto qui. Nonostante la distanza dagli altri club, c'è gente che arriva dalla Svizzera, gente da Varese, dall'Emilia Romagna, ma vengono sempre ben volentieri perché l'organizzazione è sempre stata perfetta. Per l'associazione Valtellina Sub, che vanta ottimi risultati anche in ambito nazionale, la manifestazione è oramai divenuta un appuntamento fisso e di alto prestigio. La classifica generale di questa giornata di gare è lì a darle ragione. Un primo posto tutto meritato davanti alle altre otto società concorrenti. Sempre stata ritenuta molto valida come manifestazione e ben organizzata, porta fuori dai confini della Valtellina anche il nostro buon nome.